La signora Anna Maria ha dato l'incarico ad Arcobaleno Immobiliare di vendere il proprio immobile a Trento in una bellissima zona di via Palermo. Grazie al nostro metodo collaudato di vendite abbiamo organizzato una bellissima giornata di open house con più di 15 visitatori e l'immobile è stato venduto già nel primo giorno di visite, oltretutto al prezzo richiesto dalla venditrice. Ma sentiamo proprio dalla signora Anna Maria qual è stata la sua esperienza con Arcobaleno immobiliare. Bene, io mi sono affidata all'agenzia immobiliare Arcobaleno per la vendita di un appartamento e devo veramente dire che mi sono trovata molto bene per la professionalità, serietà del titolare che mi ha seguito in ogni fase della compravendita e che è stata realizzata tra l'altro in tempi anche molto celeri, quindi con soddisfazione mia ovviamente e anche dell'agenzia che ha provveduto a tutti i contatti necessari a che il tutto andasse a buon fine, quindi con il notaio ed anche predisponendo tutti gli atti necessari alla predisposizione dell'atto di compravendita. Non posso quindi che essere soddisfatta e sono certa che anche in futuro se ne avrò bisogno mi avrò dei loro servizi.